Andiamo a collegarci con un gruppo di tifosi che ci seguono in esterno da Piazza Alcalà, quindi dal pieno centro storico di Catania. Ci colleghiamo con Angelo Gagliano con i tempi che ci vogliono. Buonasera allora dal centro proprio della città, siamo alla zona del porto di Catania. Un gruppo, ho detto tu bene, di tifosi del Catania, un gruppo di fedelissimi fra le altre cose perché hanno sfidato le intemperie su Catania a piove ormai da ore e molti di quelli che avevano dato la loro adesione per questa nostra serata sono rimasti anche bloccati, qualcuno con l'automobile a causa della pioggia, qualcuno è rimasto a casa, insomma cercheremo, parleremo anche con loro di quella che è stata la partita di ieri del Catania e non solo. Piazza Alcalà con Angelo Gagliano per sentire l'opinione dei tifosi in esterna per quanto riguarda questa partita. Allora Angelo. Sì, allora torniamo di nuovo in esterna e qui accanto a me c'è un tifoso di vecchia data, un abbonato di vecchia data, Graziano, dico bene. Allora, Graziano, abbiamo sentito cosa ha detto Patanè, ha fatto un esame a 360 gradi. La prima cosa che ti chiedo però è la tua impressione su quella che è stata la prestazione della squadra di ieri sera. Ma intanto, certo, se ritorniamo indietro, abbiamo visto la partita scorsa quando c'è stata abbastanza differenza, quindi un po' di calo c'è stato. Insomma, ci lasciano perplessi alcune situazioni per quanto riguarda gli cambi, la ripresa, le sostituzioni. Certo, tutto questo fa pensare. Fa pensare a questo punto dopo la partita di ieri sera, dopo il pareggio di ieri sera, campionato del Catania, a parte quello che pensa l'amministratore delegato, proprio Cosentino, che pensa sempre di poter arrivare a raggiungere l'obiettivo dei play-off. I tifosi, realisticamente, che cosa credono? Ma penso che dopo la partita di ieri e la conferenza che ha avuto Cosentino, penso non solo alla salvezza. Bene, allora per il momento ci fermiamo, abbiamo anche un problema sul collegamento, restituto scolarino. Sentiamo Angelo Cagliano. Sì, allora torniamo di nuovo a collegarci con i tifosi che sono qui in piazza Alcalà. Allora, dallo studio chiedevano se alcune condizioni fisiche, vedi Rinaudo che aveva avuto la febbre, vedi lo stesso Mazzotta, lo stesso Belmonte, che non stavano proprio bene, influenzati, febbre, hanno influito, hanno determinato il rendimento di ieri della squadra. Sicuramente la condizione fisica di questi calciatori ha influito anche sul rendimento complessivo della squadra. È una problematica questa che ci portiamo appresso da quando è iniziato il campionato, perché purtroppo abbiamo un preparatore atletico che ha svolto malissimo questa preparazione atletica. Io ho sempre ribadito comunque che andava mandato via e ancora si trova lì al suo posto. E dico un'altra cosa, questa squadra con una partita, diciamo, in meno sulle gambe, perché la settimana scorsa non abbiamo giocato, abbiamo accusato un calo atletico durante la partita col Crotona. A parte i miei 30 minuti iniziali, poi alla fine siamo calati vistosamente. Questo è il pensiero di Andrea, che però voleva aggiungere anche un'altra cosa, mi diceva. Sì, io volevo aggiungere quest'altra cosa. Allora, riguardo alla presentazione, diciamo, alla presenza dell'amministratore delegato e dell'allenatore in conferenza stampa, che secondo me è stata abbastanza fuori luogo, perché questa società si è presentata, secondo me, con una mancanza, una mancanza importante, diciamo, nel corso di quella conferenza stampa, perché quando tu alla base non presenti lo sponsor, non presenti l'allenatore, non presenti i giocatori nuovi che sono arrivati, non presenti le maglie ad inizio campionato e poi ti presenti, dopo tutto questo silenzio stampa inaudito, per lamentarti degli arbitri, è una cosa fuori luogo, perché è vero che l'arbitro ha inciso in qualche episodio, ma non puoi, diciamo così, mettere le mani avanti e addostrare tutto sulla colpa sull'arbitro, perché alla base ci sono anche delle lacune interne che ci sono all'interno di questa squadra. Secondo me, tutti i giornalisti che erano presenti in sala stampa si sarebbero dovuti alzare e sarebbero dovuti uscire in segno di protesta, perché ci vuole rispetto nei confronti della stampa locale, quindi non basta mandare Marco Lin soltanto su Sky, ma ci vuole rispetto anche della stampa locale, che lavora, fa sacrifici per seguire la squadra, e rispetto per l'ambiente, rispetto per i tifosi, 10.000 abbonati che a inizio campionato hanno dato fiducia a questa squadra, siamo sempre presenti solo per la maglia e per la città, ricordiamocelo tutti, la maglia e la città. Grazie, allora ad Andrea io restituisco la linea, ad Angelo Michele e ai suoi ospiti. Intervento accorato, mi sembra però di poter dire una cosa, per quanto riguarda, adesso andiamo un attimino, per quanto riguarda proprio l'intervento di Cosentino, la prima parte dell'intervento di Cosentino, seppur un intervento nervoso, anche questo un intervento accorato, mi sembra di poter dire che quello che ha detto lui nei confronti dell'arbitro non è che possa essere discusso, cioè, voglio dire, Alessandro, aveva torto a dire quello che ha detto o aveva torto a dire come lo ha detto? Poteva ridirlo a Sky, come aveva fatto in occasione delle altre partite, non aveva bisogno di indire una conferenza stampa, sicchietto stantibus con la stampa catanese, perché la stampa catanese è stata ignorata per tutto il campionato, è stata additata quasi come la causa di tutti i problemi del Catania, e quindi l'intervento che ha fatto il nostro tifoso a Piazza Alcalà non fa una grinza, avrebbe usato la cassa di risonanza di Sky come aveva fatto contro il Perugia, come aveva fatto contro la Provercelli, il Catani ovviamente, aveva parlato Marco Lin, ma nel caso specifico, se l'amministratore delegato voleva esprimere il suo disappunto, continuava a farlo con Sky, perché qui non è che siamo di comodo, che apri la telecamera perché io voglio insultare il signor Sacchi, quindi più giornalisti ci sono, più cassa di risonanza arriva dal mio intervento, non è così, quindi ci vuole rispetto per chi lavora, perché lui lavora, ma lavoriamo anche noi, dalla mattina alla sera, in difficoltà massima, quindi questo è un discorso che va approfondito, va assolutamente censurato per come è stato ieri impostato questo tipo di ragionamento da parte dell'amministratore delegato del Catani. Non esce, non esce bene, non ce la fa ad uscire bene, anche se ripeto, secondo me la prima parte dell'intervento, lo ribadisco, il concetto per me era assolutamente normale, poi nella seconda parte possiamo discutere da qua fino alla fine dei nostri giorni. Scusa, la sensazione è che ci prendiamo in giro da soli, e io siccome sono contrario alle prese in giro, dico quello che penso perché è il mio pensiero. La prima parte non fa una grinza, ma la prima parte la puoi comunicare in qualunque modo, in una conferenza stampa come tutte quelle che avresti dovuto fare probabilmente, o avresti dovuto concedere nell'arco delle settimane precedenti, e invece non l'hai fatto perché vinci le partite e allora non ti vanno i giocatori. Dico, scelta della società, assolutamente, posso dire la mia, posso pensarla. Il problema della conferenza stampa è che invece quella è diventata un pretesto. Cioè la conferenza stampa non era per prendersela con l'arbitro, ma era per bacchettare la stampa, per bacchettare i giornalisti e per difendere ancora una volta l'operato di se stesso, contro qualunque evidenza, l'operato di Ventrone, giustificandolo, dando delle ragioni, poi sarà la storia a dire se è vero o no, raccontare a distanza di 4-5 mesi che questa squadra è partita male perché c'era metà gruppo infortunato e che quindi non dice perché è stato cambiato Pellegrino, perché allora se tu sei consapevole del gap in partenza mantieni Maurizio Pellegrino. Non dici, anzi, addossi la responsabilità a Sannino perché lo dice chiaramente, è insomma atteggiamento poco galante nei confronti di Sannino perché se si infortuna i giocatori dice chiaramente è colpa di Sannino e tutto il buono che fa il Catania lo firma lui. Vero, porta Calaio, vero, porta Rosina, vero anche che per sbolognare tutto quello che è stata la zavorra che ci ha portati in Serie B e che non è stato in grado di gestire nell'arco di un anno e mezzo c'è voluto il mercato di riparazione a gennaio e l'arrivo di un cane da caccia che si chiama Delicarri. No, insomma, è chiaro. E allora io difendo il mio operato, il mio, quello che mi rimane, Castro, perché dovrebbe essere uno degli altri giocatori che andranno praticamente ad essere gestiti in uscita, in futuro, da Cosentino. Ventrone, l'autore di una preparazione atletica la più costosa del Catania da quando è Pulvirenti o penso proprio nella storia del Catania. La più costosa. Operazione da quasi un milione di euro. Da quasi un milione di euro. Tra Ventrone e tutta l'equipe. Collaboratori, palestra, fatta a uscione del consumo. Manchina del ghiaccio. Ci viene detto che acquistano giustamente dei giocatori seguendo il bilancio e ne vendono altri perché hanno delle operazioni, chiaramente, che devono seguire il bilancio. E poi è una società che prende D'Amblè un milione di euro e lo mette nel preparatore sportivo. Signori miei, insomma, il Catania aveva preparatori sportivi che pagava guardate un attimo i libri paga davvero reputo un decimo Ma c'era uno proprio stipendiato sia a Giovanni Petrelia che godia a lavorare per il Catania e si capisce per quale motivo non poteva proseguire il proprio lavoro. A fronte di questa situazione la conferenza stampa è un pretesto legittimo perché tu sei il proprietario ti comporti così da proprietario e fai quello che vuoi è giusto che i tifosi ci dicano beh, bisognava alzarsi e andare ma poi devi anche informare le persone e devi anche dare la possibilità di parlare poi le considerazioni ognuno le fa però non era proprio contro l'arbitro la conferenza stampa l'arbitro non c'è bisogno di una conferenza stampa Allora, un attimo, un attimo Io credo che sia l'ennesima dimostrazione che questa risorsa sta utilizzando il Catania come un giocattolo personale perché non può Adesso mi sembra che stiamo No, scusa Mi sembra che adesso stiamo veramente No, non può improvvisamente Cominciano a passare una serie di messaggi su chi è il proprietario Non può utilizzare Ma non può essere Ma cos'è? Cosa ha utilizzato? Allora Decide quando parlare Decide quando E' fino a provocandare nella sua libertà Poi Sì, ma c'è un presidente sopra di lui Ho capito Ma se il presidente Deve dare conto a una tifoseria a una città Sì A uno staff giornalistico a uno staff televisivo Non è una sua cosa personale che decide quando parlare quando stassene zitto perché a parte il fatto che l'atteggiamento che ha tenuto ieri come dirigente non sta né in cielo né in terra Manco Billy della Bovio faceva queste cose in un campo di calcio Per cui questa esternazione avrebbe dovuto farle sicuramente nei luoghi opportuni Che è la federazione Cosa che lui dice di aver fatto ancora prima di aver fatto la conferenza Abbodi oggi ha rilasciato questa dichiarazione vi leggo velocissima a proposito delle dichiarazioni di ieri di Cosentino e di Bielizza che aveva fatto anche dei commenti abbastanza pesanti sulla classe arbitrale dice Abbodi oggi nel passato gli errori parlando degli arbitri erano un po' più sporchi oggi un po' più puliti i due Cosentino e Bielizza vengono da altri paesi ancora non hanno capito come si sta il gioco in Italia le loro parole sono state superficiali e non condivisibili quindi già l'intervento di Cosentino ha ottenuto un effetto contrario rispetto a quello che poteva essere la speranza con questo collegamento un po' martoriato questa sera con Angelo Gagliano Ma sì con ogni probabilità saranno anche le condizioni medio che condizionano il nostro collegamento Andrea è il padrone di casa stasera ha organizzato lui ma insomma l'altra volta dovevamo essere con voi si è messo a nevigare a Catania cosa incredibile stasera ha diluviato adesso però ti chiedo in maniera molto molto schietta cosa ti aspetti in vista della trasferta di Pescara ma mi aspetto che finalmente facciamo un risultato fuori casa perché finora abbiamo fatto due punti ed è una media da retrocessione se riusciamo a vincere fuori casa ci possiamo rimettere in gorsa non dico per i playoff però quantomeno per una salvezza tranquilla perché a questo punto io mi guarderei più dietro che avanti questa è l'opinione di Andrea un applausi per lui io mi sposto perché volevo sentire anche un altro vecchio abbonato dai tempi dei Massimino mi diceva state organizzando la trasferta voi? si stiamo organizzando siamo un gruppo di amici partiamo domenica per Pescara è una trasferta abbastanza ostica però non ci saremo sempre per la maglia per la città ovviamente domenica è il banco di prova principale per la squadra inizia un nuovo campionato la prima trasferta di questa nuova squadra quindi non ci sono scuse alibi infortuni arbitri anche quindi domenica si deve vincere naturalmente permettendo anche a Ventrone e anche l'allenatore che ha fatto qualche cambio un po' particolare domenica lui è cioè ieri quindi domenica per vincere a tutti i costi grazie allora io visto che il collegamento appena al momento sta resistendo volevo volevo sentire un attimino Francesco non so se ci arriviamo a seguirlo perché anche lui è uno che continua a stare sempre vicino al Catania Francesco allora tu hai visto la partita ieri? si l'ho vista e cosa ne pensi? ma purtroppo ci sono stati due rigori contro che non sono stati a favore negati al Catani che purtroppo lasciano la mare in bocca quindi un risultato che poteva andare per il meglio invece è stato vabbè ci accontentiamo il pareggio meglio di una sconfitta grazie allora la linea allo studio allora andiamo a sentire Angelo andiamo con l'ultimo intervento anche perché sono già passati i titoli di cosa sì praticamente siamo in chiusura da da parte dei difusi c'è un ringraziamento da fare ringrazio tutti voi in studio per questo per averci ospitato e speriamo che la prossima racconteremo un Catani vincente e diverso visto fino a ora grazie allora possiamo chiudere la linea allo studio definitivamente allora siamo arrivati alla conclusione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti